dal dosso e soprattutto il ragazzino Daniele Casiraghi, classe 93, tre migliori in campo. Tridente di attacco, composto dai due esterni, i fratelli Bortolotto, Enrico con il numero 7 e Roberto con il numero 11, centralmente il centravanti Sinato. Arbitro, a mio giudizio, insufficiente, Davide Penno di Nichelino. Queste sono le formazioni per questa quinta giornata in prima divisione Lega Pro Girone A. Come abbiamo detto, circa 4.000 presenti, mentre dal Pisa Point ci hanno informato che gli abbonamenti sono arrivati a 2011, quindi sempre molto...